... ... ... sono 35 i giri in totale da percorrere la prima campana a meno 32 la prima eliminazione a meno 31 si elimina nei giri ogni due giri nei giri dispare fino a quando arriviamo alla campana di meno 4 e da lì si comincerà ad eliminare ogni giro fino al traguardo finale due spill meno 33 a questo passaggio siamo a campana di meno 32 prossimo passaggio prima eliminazione di questa finale eliminazione di meno 31 4-8-4 siamo alla campana di meno 30 eliminazione 4-9-9 campana di meno 28 eliminazione 3-1-9 3-1-9 3-1-9 18-18 campana di meno 26 2-3-8 2-4-4-3-4-7 5, 1, 4 Capaldi fino a 22 5, 1, 3 513 eliminata all'esterno meno 20 eliminazione 4, 0, 5 Campana di 0, 18 eliminazione numero 468 468 eliminata al precedente passaggio c'è una campana di meno 16 numero 76 ammonita sarà il prossimo passaggio il prossimo giro si è rimina eliminazione eliminazione 3, 2, 0 3, 2, 0 accelerata un po' accelerata un pochino dietro siete dietro viene su eliminazione 4, 0, 3, 0 4, 0, 3 4, 0, 3 4, 0, 3, 0 Alla passaggio c'è traguardo volante, eliminazione traguardo volante, 48 traguardo volante, 152 eliminata. Occhio quando vanno piano, campana del mio otto nel frattempo, eliminazione. Tre, cinque, quattro. Siamo arrivati alla campana di fino a sei. L'eliminazione da folle, erano due davanti, dai un colpetto, non hai dato il colpetto, si vedea che hanno meno. Non andare dentro, non ti puoi andare dentro. Sì, giusto, vai dai. La terza, sei davanti, il secondo, un coltino, sei davanti. Eliminazione. Eliminazione. Tre, uno, otto. Siamo arrivati alla campana di fino a quattro. Dal prossimo passaggio si elimina ogni giro. Federico. Eliminazione di fino a tre. Tre, cinque, due. Prossimo passaggio, continuano le eliminazioni. Eliminazione di fino a due. Due, uno, sette. Prossimo passaggio, eliminazione campana dell'ultimo giro. Ultimo giro ed eliminazione. Quattro, nove, tre. Siamo arrivati alla corsa dell'ultimo giro. Arrivo. 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 Arrivo.